Tanti auguri di felice Natale speciale oggi per voi ovviamente siamo in una location diversa con il nostro bel alberello e cosa facciamo oggi? Facciamo un bel unboxing dei regali di Natale ovviamente come non può mancare questo momento abbiamo fatto infatti i regali al canale di Via Di Tividendi in realtà non li ho fatti neanche io, poi li ha fatti mia moglie però vabbè, non glielo dite cosa c'abbiamo qui? Abbiamo un bellissimo pacco regalo e questa bellissima tavolozza che adesso scopriremo che cos'è intanto cominciamo ad aprire il nostro bel pacchetto ok, abbiamo già il primo che è venuto fuori, guardate qua questo è già uno spoiler, vediamo un attimo tra un po' che cos'è il nostro bel pacchetto Amazon andiamo ad aprirlo ci abbiamo delle belle novità che finalmente credo vi faranno piacere a tutti quanti infatti oltre alla carta prima importante novità avete finalmente, eccolo qua, un bel microfono abbiamo aumentato la qualità del nostro video quindi cominceremo a usare un microfono fatto con tutti i crismi vediamolo un po', oh guardate che bellino boia eccolo qui il nostro bel microfonino che è doppio infatti potremmo usarlo anche per fare le nostre interviste come quella che abbiamo fatto all'amministratore delegato di fuori e quindi da adesso in poi avremo anche l'alluso del supporto tecnologico oh abbiamo anche delle bellissime cos'altro c'è nella busta? vediamo un po', oh questo è un po' enigmatico facciamo con un pezzo di filo guardate qua un bellissimo stabilizzatore per smartphone così quando andiamo in giro per fare le nostre interviste abbiamo una migliore qualità delle immagini apriamolo stabilizzatore vediamo un po' da c'è dentro oh guardate che bellino ah è proprio piccolo ma se già ci sarà l'ottima ha la sua bella tra i piedi e la sua bella custodia è portatile, sta in una tasca quindi sarà veramente molto utile per i nostri video ultima bellissima sorpresa guardiamo un po' che cos'è questo oh è più grande di me riuscirò ad aprirlo? vediamo qua wow wow gigantesca una bella lavagnozza che ovviamente era coordinata con i nostri bei pennarelli e questa ci servirà o per farci dei bei video come possiamo spiegare direttamente scrivendoci oppure per pianificare anche tutte le attività per il canale e non solo molto molto utile e anzi ve la consiglio per avere sempre anche in maniera visuale la vostra pianificazione perfetto che altro dirvi di nuovo tanti auguri tanti bei regali quindi nuove immagini nuova qualità del suono e soprattutto tanti bellissimi video per un nuovo anno ancora insieme ciao e buon dividendo a tutti